salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in un volo secondo me bellissimo soprattutto per l'ambientazione e per quello che sono le riprese fatte da un drone che sto apprezzando in maniera pazzesca che è il dji avata l'ambientazione ragazzi come avete letto dal titolo è autun in avata perché perché oggi voleremo nei colori dell'autunno anche se siamo solo all'inizio dell'autunno ma già adesso la natura sta comunque iniziando a dare il meglio di sé per quanto riguarda la colorazione che prende in questo periodo e questo video appunto per vedere la resa di questa videocamera montata sul dji avata nella prova che vedremo oggi ho montato il filtro polarizzato della freewell che è uno dei filtri disponibili prodotti appunto dal marchio freewell vi lascio qua sotto i link in descrizione nel caso li vogliate acquistare o dare un'occhiata e ragazzi ovviamente i filtri sono indispensabili sui droni perché le loro fotocamere fanno fatica a gestire ovviamente la tanta luce che arriva nel sensore quindi il video che vedremo oggi appunto sarà questo cinematic video con un volo in fpv creato da un drone che ritengo davvero ottimo dji ha fatto un lavoro pazzesco per quanto riguarda diciamo la semplicità di volo che ci riesce a restituire questo drone è incredibile e non sto parlando solo della modalità quella normal quella più semplice per principiati dove veramente chiunque può guidare un drone in fpv in questa modalità poi nella modalità sport rimane comunque facile da pilotare ma con prestazioni più elevate sebbene sempre facile ma la parte che veramente è la morte sua di questo drone è per ruotarlo in manual quindi in acro dove ovviamente bisogna avere un po di esperienza il volo che vedremo oggi sarà totalmente in acro quindi in manual con tutto sbloccato anche l'inclinazione massima del drone sbloccata il risultato secondo me è tanta tanta roba sia per la resa della fotocamera che dei filtri che appunto per come vola il drone per come stabilizza le immagini questo drone di casa dji quindi ragazzi se il video che andate a vedere dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler di questa location tantissimi spoiler e non arrivati sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test tutorial una novità ma adesso ragazzi mettetevi comodi risoluzione di youtube al massimo e rilassatevi con auton in avata donne tutto bene ma siete sicure che la strada è quella lì sì mi sembra più una difficoltoia a me che una scorciatoia ma di fatto che sono qui su da circa 20 minuti voi dovete ancora arrivare tua mamma sta perdendo gli anni di vita è come al videogioco senti la vita che scende eh sì col fiatone brava ma è stata veramente la scorciatoia fatti grazie a tutti 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 Grazie a tutti